Grazie, sei tornato, come avevi detto, ero così, così spaventata. Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax, bentornati sul mio secondo canale, bentornati qui su Itmanab Solution. Un inizio di puntata molto dal sapore The Last of Us, per chi lo ha giocato. Erano colpi di pistola. Shhh, parla piano. Ho promesso a Diana che ti avrei tenuto al sicuro. Ovviamente questa ragazza, Victoria, così come anche Diana, fanno parte della storia. Io non vi sto mostrando niente della storia perché, per scelta, voglio che questa serie sia puntata sul gameplay. Chiaramente, il mio consiglio, qualora vi interessi la storia, è di giocarlo. Arriva qualcuno, quindi ci nascondiamo. Shhh, cos'è stato? Non muoverti. Shhh, cos'è stato? Non muoverti. Fatto così, mi piacciono i massacri. Ok. Devo riattivare la corrente. Sorella Mary sta aspettando nel seminterrato. Ti raggiungo lì. Ok. L'abbiamo sentito da gente. 47, dobbiamo riattivare la corrente. Per farlo ci servono 4 fusibili. Ragazzi, questa missione è difficilissima. Io ci sono morto davvero tante volte. Tante, tante volte. Questa è la prima volta che la rifaccio. Spero di riuscire a farla al meglio. Ancora niente. Bisogna essere davvero perfetti. Letali. Allora. Quando nell'ambiente, ti faccio un esempio, c'è il treno che passa. Quando passa il treno loro non sentono i rumori. Ok. In questo caso, qui, quando c'è sangue per terra, se noi lasciamo sangue loro non... Non vedono il sangue. Ma quando il sangue non c'è, lo notano e come. Quindi su questo dobbiamo stare molto attenti a non lasciare tracce di sangue. Perché anche se non lasciamo corpi, se loro vedono il sangue, si allertano. Ed è per questa motivazione che cercheremo di fare il più possibile con il laccio. Con la corda di pianoforte. Già, sono là dentro da un sacco. Il tipo non è una pelle nuccia. Devo giocare. Ok. Allora. Fin qua è facile. Ah, non mi ricordo se abbiamo preso i fusibili. No. Ok. Primo fusibile trovato. Allora, fin qua è facile. La parte di sotto inizia il bello. Allora. Oh, cavolo. Dice che non sapremo trovare nemmeno il nostro uccello. Non so voi. A me non piace sentirmi dire che non ho le palle. E fa fidare le macchie. E il secondo c'è. Ragazzi, ci sta andando anche molto di fortuna. Mamma mia, come ci sta andando. Dove cacchio stiamo andando? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Come ce l'abbiamo fatta proprio di... Gli striscia. Ok. Ok. Perfetto. Come vedete, bisogna calcolare tutto al millesimo. Perfetto. Perché se no... Ti vedono. È chiaro. Perfetto. 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 ... Alla prossima. ma qualcuno deve fare più ma chi fa più istinto mamma mia ragazzi come ce l'abbiamo fatta a sto giro ehi che sei tu davanti qual è il problema mi piace quando ti ribelli forza ribellati fighetta ehi Wade ne voglio un po' anch'io eh andiamo la ragazza e ora andiamoci stiamo qui perché non lo dice Wade e senza sballarti benissimo qua non ci riconoscono ci sono alcuni che ci riconoscono alcuni che non ci riconoscono questi qua per fortuna no ma più avanti si 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 ma porca troia c'è qualcosa che non mi convince sei tu esatto tu vieni qui che voglio darti un'occhiata da vicino non ti si 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 se si 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 Mamma mia ragazzi Questa chiude la puntata di oggi La cutscene ve l'oscuro E' chiaro perchè vi oscuro la cutscene E' chiaro perchè non vi sto facendo vedere Le scene di intermezzo C'è un doppio scopo Sia perchè voglio che questa serie punti sul gameplay E sia perchè chiaramente le scene di intermezzo Le può flaggare Non ha senso Ragazzi io Sono soddisfattissimo Abbiamo fatto una parte Davvero molto Molto difficile E ci è andata anche molto di culo Questo Lo ammetto Siamo stati fortunati E mi fa piacere che è venuto così Paradossalmente perchè Molto in stile film Cioè Sempre per l'ultimo secondo Bello Mi piace Mi piace molto Alla prossima puntata